Come si è occupato? Come si è occupato poco sul fatto e su pochi altri giornali, ovvero della società SCR che in qualche modo pare che faccia capo al fratello di Nicola Cosentino e l'altro caso interessante e ancora meno discusso è quello del rapporto tra Manutencop e il gruppo Biancamano che è gli amici di Dell'Utri. Sì, è tutto un sistema che sostanzialmente non vuole farsi processare, non vuole farsi indagare e che contemporaneamente pensa di vincere e celebrare le vittorie contro la mafia. Quindi alcune icone di alcuni mafiosi posati dalle organizzazioni criminali, degli assassini che ormai sono anche scomodi alle organizzazioni criminali che vengono ceduti in pasto affinché la celebrazione di queste catture, di queste condanne possa nascondere quelle che sono le vere collusioni dei veri referenti della mafia con le istituzioni a cui finiscono per essere scomodi anche quelli che sparano. Perché tanto quando la mafia poi al governo e al potere non ha più bisogno di servirsi di quelli che sparano. Lei pensa che praticamente il fatto che queste società come nel caso di ERA, che sono queste cosiddette multi utilities in cui ci sono anche compartecipazioni da parte degli enti pubblici come i comuni eccetera, che cosa dovrebbe fare un rappresentante delle istituzioni, che sia un sindaco, che sia un presidente delle regioni di fronte alla notizia del fatto che ci sia una società appunto a capitale, come dire, con un capitale sociale non pubblico, che non si possa conoscere in qualche modo quelle che sono le persone con cui si fanno queste società. Che intervento pubblico potrebbe esserci da questo punto di vista, benché si tratti di una S.P.A.? Già il dubbio dovrebbe portare a rescindere i contratti, perché una pubblica amministrazione non può trattare con imprese di cui anche lontanamente sia sospetta l'appartenenza mafiosa. E nel caso in cui queste società con capitale sociale coperto da segreto fiduciario abbiano ricevuto, nonostante ciò, il certificato antimafia, la responsabilità in quel caso dove va cercata? E dove vengono fatti i certificati antimafia e dove si fanno le indagini per stabilire se una persona è mafiosa o no. Perché quando non si è stabilito che una persona è mafiosa anche il certificato antimafia sarà pulito. Ma è un certificato antimafia sostanzialmente sporco. Grazie. Grazie.